C'è qualcosa in te che vorresti cambiare? Il tuo look non ti convince più? Non pensare che sia impossibile. A Cassano Dadda è nato Cambio Look, dove potrai trovare la soluzione ai tuoi dubbi. Seduta di trucco e portamento, giusto abbinamento dei capi di abbigliamento, scelta dei colori che ti valorizzano e personal shopper, remise in form per il look e accarezzamento dell'anima pre e post parto. Inoltre da Cambio Look puoi imparare a trasformare lo stress, l'ansia e le paure in energia positiva attraverso visualizzazioni creative, apertura dei chakras, cristalloterapia, musicoterapia, uso della frequenza dei colori e molto altro ancora. Se sei innamorato, Cambio Look scriverà per te bellissime lettere d'amore per la tua persona speciale. Chiamaci o visita il sito cambiolook.it. Il primo colloquio è sempre gratuito. Diventerai regista del tuo futuro. Cambio Look, al top in ogni situazione.